Il nostro paese, direi tutto il mondo occidentale, colpito da questa pandemia, vive un momento storico di grande disagio, di povertà, anche di profonda vulnerabilità psicologica. Quindi per venire all'attualità, Elisabetta, proprio a fronte della sua esperienza e competenza sul campo, vorrei chiederle un commento su due vicende molto attuali. La prima è la sanatoria dei braccianti agricoli, che ha visto la commozione della ministra Bellanova e a corollario una serie di durissime polemiche. Quindi vorrei un suo parere su questa decisione del governo e sulla situazione che è andata a toccare, perché so che siete stati coinvolti in una grande iniziativa di sensibilizzazione. Il tema dei diritti è al centro della nostra mission, in qualsiasi direzione. È da tempo che c'è bisogno di focalizzare sul diritto a tante persone invisibili sul nostro territorio, si calcola 5, 600 mila e forse anche di più, che lavorano però proficuamente e contribuiscono anche all'andamento dell'economia italiana. La categoria dei braccianti è la più evidente, perché con l'astensione del loro lavoro anche gli autottoni, gli italiani, rischia di non potersi trovare sul tavolo la frutta e la verdura. Ma poi ci sono tante persone impegnate nella cura, nella cura delle persone, nelle famiglie, assistenti domiciliari, badanti per gli anziani, quanto mai importanti in questo periodo in cui gli anziani devono stare protetti. E poi ci sono anche tanti altri settori, l'edilizia, la ristorazione, dove molte persone lavorano in uno stato di immersione civica e anche di sfruttamento lavorativo. Mai come ora, purtroppo in tutti questi anni non si è trovato il modo di trovare una quadra per renderli cittadini titolari, dei diritti di tutti quanti, quelli della nostra Costituzione, e ora come ora il diritto alla salute è assolutamente un diritto inalienabile. E oltretutto è un diritto, io direi, double face, perché in uno stato di epidemia, anzi di pandemia, come quella che stiamo vivendo, in cui il contagio è un tema importante, è un tema civico, addirittura sta modellando le nostre vite, i nostri rapporti sociali. Bene, il diritto suffruito da uno è il diritto fruito da quella persona, ma anche dagli altri, perché se io sono sano garantisco anche la tua salute. Quindi è del tutto irragionevole oggi non porre in chiaro, in evidenza questa massa di cittadini e quindi un gruppo di persone esperte del mondo dell'educazione, dell'immigrazione, circa 250, fra avvocati, persone come me, operatori del sociale, studiosi, persone impegnate sul terreno, in tutti i modi, si è messo insieme per promuovere una grande rete, infatti poi sono anche seguite tantissime adesioni, proprio in questo momento per riflettere, si chiama Grey 250, l'iniziativa è stata di una persona che è un nostro compagno di iniziative, abbiamo fatto tante cose insieme, Ugo Melchionda è funzionario dell'Ocse, che insieme stiamo riflettendo proprio in questo momento, in cui il decreto è nella sua fase transitoria, camminando verso una legge definitiva, per cercare di vedere il modo più ragionevole per cui questo strumento possa davvero aiutare molte persone. E la ragionevolezza si basa su questi seguenti criteri, uno possibilmente l'allargamento della platea a tutte le categorie di lavoratori, non si capisce perché il diritto alla salute debba essere fruito solo da abbraccianti, colfe e badanti, ci sono tutti gli altri settori. Poi il tempo di emersione di sei mesi è molto corto, perché in sei mesi la persona che godrebbe di questo permesso transitorio dovrebbe trovarsi un lavoro regolare e in questa fase in cui abbiamo una esplodere purtroppo di disoccupazione anche italiana è veramente dura, che gli consenta di commutare questo permesso transitorio in un permesso definitivo. È un tema di sicurezza perché chi rimane nel sommerso italiano o straniero va ad alimentare l'economia sommersa quando non è economia criminale ed è quindi un tema di sicurezza, è un tema di diritti del lavoro ed è un tema di salute. Quindi ci siamo battuti e stiamo cercando di fornire anche alla platea degli immigrati che aspirano a una regolarizzazione delle indicazioni. Stiamo aspettando appunto di vedere la definizione ultima di questo decreto quando si trasforma in legge e cercheremo di rivolgerci ciascuno per i propri canali agli immigrati per aiutarli ad accedere alla regolarizzazione senza però cadere nelle maglie di improvvisati sfruttatori o più o meno improvvisati intermediari che possono lucrare sull'aspirazione alla regolarizzazione magari promettendo il buon esito della pratica quando non ce ne sono i prerequisiti e purtroppo sappiamo che nel mondo dell'immigrazione tante persone speculano come intermediari. Quindi ci stiamo battendo e stiamo chiedendo l'adesione di tutti. Non è un movimento politico, non è un movimento neppure sociale, è un gruppo di studio e di collaborazione affinché questa legge possa uscire fuori nel modo più inclusivo possibile.